Minacce ai siciliani giovani nel giorno di Borsellino, scritto da Salvatore Borsellino ed il Movimento delle Agende Rosse, venerdì 21 luglio 2017. Una busta contenente una copia dei siciliani giovani e minacce di morte è stata recapitata nel pomeriggio del 19 luglio alla sede del giornale a Catania. Le minacce erano specificatamente destinate al responsabile della redazione catanese Giovanni Caruso, che pochi giorni prima, presentando il giornale, aveva annunciato l'acquisizione di beni confiscati alle famiglie mafiose catanesi. Sono in corso le indagini. Non si esclude la non-causalità della data. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza a Giovanni Caruso e alla redazione dei siciliani giovani. Un forte abbraccio da parte di tutti noi, Salvatore Borsellino ed il Movimento delle Agende Rosse.